Come vedo queste due squadre sono nuove, sono due squadre al torneo giusto? Vediamo un po' cosa avranno da dire. Attenzione! La scelta doppia! Davanti! Se ne esce così il tiro! Traversa piena! Guarda il team Vergini! Se ne esce così il tiro! Che gol! Non sappiamo il nome, però è un bel gol! Vigna! Il pallone non lo esce! Recuperato! Ancora il tiro! Che parata del portiere! Ottima la difesa lo scuta fuori! Ancora Vigna! Per Aggravio il tiro! Davide Aggravio! Risultato di 2 a 0! Tacco di Vigna, però non esce il tiro! Aggravio! Renzo! Gira nel Red Devil! Aggravio, Aggravio! Ancora Aggravio! Combatte Aggravio! Ne va così! Aggravio! 3 a 0! Aggravio in forma eh quest'oggi! Finisce quasi il primo tempo con il gol di Aggravio! Cusco è in avanti per Matera! Ancora Matera! Calcio di rigore! Matera tira il gol! 3 a 1! Però c'è Carmine! Mezzo a 3! Carmine Vigna ancora passa! Vigna! Vigna! Carmine Vigna! Che gol! Poggia da Enzo che tenta il tiro! Cusco! Tenta il tiro! Attenzione cerca di uscire! Cusco! Però c'è ancora il Red Devil con Vigna! 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 Parata! Poi il pallone di Manella! Pallone arriva per Esposito! 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 Pallone di poco fuori! Castro! Castro! Fra Castro! Fra Castro! Tenta il tiro! Un ottimo Sannino! Che recupera! Va per Aggravio! Aggravio! Cerca il pallonetto! Portiere Smanaccio! Non c'è ancora Aggravio! Il tiro! Deviato da Marca! E Calangobardio! Non lo trova! Attenzione Vigna! Per... Aggravio! Controlla! 5 a 2! E finisce così la partita! 5 a 1! Scusatemi! Finisce così la partita! Ragazzi siamo qua al termine di questa amichevole! Una partita molto... Molto combattuta all'inizio però che ha visto vincitori i Red Devil! Che ne pensi di questo torneo? Vedi che siete una squadra nuova! Vabbè la prima partita ci devo conoscere... Sì sì! Infatti... La forma fisica però... Ancora... Dovete ancora studiare in mezzo a campo però... Però... È un ottimo inizio! Comunque la persona è molto brava quindi... Sì sì sì! Che... Allora... Ci vediamo... Settimana prossima per l'inizio di questo torneo! Andi Angelo! Andiamo qua ad Aggravio! Alziamolo! Salve ragazzi! Nostro bomber! Aggravio allora che ne pensi dopo il torneo che hai appena concluso con l'equipe? Abbiamo visto com'è finita e... Ti sei subito ripreso facendo... Sì... Una nuova squadra! È un'ottima avventura con l'equipe ma... Adesso penso alla mia squadra! Sì sì! Dove ti vuoi collocare? Puntiamo in alto! No! Dove ti vuoi collocare? In quale... In quale liga? Penso Elite! Sì con i due vigna hai anche fatto un ottimo scouting questo... Già sai no! Allora... Vedremo! Salutiamo! Non voglio parlare vedremo! Vi devi parlare del campo! Allora... Ci vediamo la settimana prossima per l'inizio di questo torneo! Vai ci siamo! Ciao ragazzi! Ciao! Arrivederci a tutti! Grazie! Grazie! Grazie!